Se son rose fioriranno, nel senso che i due coordinatori del PDL, Fabrizio Di Stefano e Filippo Piccone, hanno messo a punto la rosa dei nomi da consegnare al presidente Gianni Chiodi, in vista dell'imminente scelta dei dieci assessori, del presidente del Consiglio regionale e del vicepresidente di giunta. Nella trattativa, che deve accontentare non solo le varie componenti partitiche della coalizione, ma anche gli equilibri territoriali, rientrano, lo ricordiamo, pure altre caselle, come le presidenze di commissione e quelle dei vari enti strumentali. Tra i criteri di scelta avrà un forte peso anche chi e dove potrebbe subentrare, come primo dei non eletti, al posto degli assessori. A poche ore dall'ufficializzazione della giunta e nel pieno delle trattative a porte chiuse, proviamo dunque ad aggiornare il totonomi. Cominciando da Forza Italia, Nazario Pagano resiste come sicuro presidente del Consiglio regionale. Daniela Stati rafforza la sua candidatura da assessora all'agricoltura. L'altra donna in giunta sarà quasi certamente Nicoletta Verì. Ci sarebbe vero anche Federica Chiavaroli, 38enne imprenditrice di penne, ma ha già avuto, tra virgolette, il privilegio di essere stata eletta con il listino. Insistenti sono le voci che vogliono il terramano Lanfranco Venturoni, futuro assessore alla sanità, Giuseppe Tagliente, dato come capogruppo del PDL. In corsa per un posto in giunta anche Paolo Gatti, terramano che ha ottenuto ben 10.000 voti. I quattro nomi forti di N sono sempre quelli, Giandonato Morra, Gianfranco, Giuliente e Mauro Febbo, per molti l'uomo giusto per l'assessorato al bilancio. A Daenne spetta anche la vicepresidenza di giunta e per questo prestigioso incarico viene indicato Alfredo Castiglione, che otterrebbe per di più una delega alle attività produttive. Per quanto riguarda gli alleati minori, si può dare per certo che l'aquilano Giorgio De Matteis, il pescarese Carlo Masci ricopriranno un incarico di prestigio, presto per dire però se si tratterà di un assessorato. Per De Matteis si parla infatti della vicepresidenza dell'Assemblea regionale. Lo statuto stabilisce che il presidente Chiodi può scegliersi due assessori esterni. Uno l'avrebbe già scelto, si tratta di Mauro Di Dalmazio, ex assessore comunale, quando Chiodi era sindaco di Teramo. A lui spetterebbe la delega al turismo. Ma quasi certamente non ci sarà un secondo assessore esterno, perché ciò complicherebbe la ripartizione tra le varie componenti della coalizione. Un altro fedelissimo di Chiodi, Enrico Mazzarelli, si appresti invece a ricoprire l'incarico di capo di gabinetto. Ci sono, in vero, altri nomi che circolano, con alterne quotazioni. Citiamo ad esempio Walter Di Bastiano, Luigi De Fanis, Luca Ricciuti. Ma le rose dei nomi hanno petali limitati e anche qualche spina.